Episodio 5 di Matplotlib. Oggi vediamo come creare un grafico a linee riempito, ovvero riempiendo quella che è l'area magari delle X, piuttosto che la differenza tra due linee diverse, oppure tra il nostro grafico e la media e via discorrendo. Adesso vedrete meglio di cosa sto parlando. Allora, cominciamo rifacendo il nostro grafico a linee, se ve lo ricordate. Innanzitutto creiamo una X dove andiamo a mettere l'età, quindi andiamo a mettere 26, 27, 28, 29, 30, possiamo anche far di più, se volete. Devo sistemare qua 29, magari partiamo da 25. Perfetto. Poi sotto sulla Y andiamo a mettere dei dati totalmente a caso, possiamo partire con 80, 150, 170, 130, ne mancano due, 140 e 190. Sono soddisfatto così. Per mandarlo a schermo abbiamo detto plt.plot, ne mettiamo X, Y. Vediamo il risultato. Ecco qua, vedete che abbiamo il nostro grafico, ok? Adesso il nostro obiettivo è andare a riempire quest'area. Quindi anziché avere solo una linea, andare a colorare tutta questa parte qua, dalle X fino ai vari punti del grafico. Perciò ci basta andare qua sotto e fare plt.fillbetween, eccolo qua. E diciamo che vogliamo riempire da X a Y. Perfetto. Proviamo a lanciare e vedete che si è riempito il grafico. Eccolo qua. Se volete rendere il colore leggermente diverso, possiamo utilizzare l'alpha in sotto, possiamo colorarlo, cioè nel senso possiamo letteralmente scrivere color e usare il blue. Nessuno ce lo vieta, quindi se noi chiudiamo e rilanciamo, ecco qua, vedete che il grafico sarebbe arancione, ma noi abbiamo usato il blue. Ma al di là di quello è comunque troppo potente, motivo per cui, tolgo un attimo il colore, usiamo l'alpha. L'alpha sarebbe l'opacità, perciò possiamo mettere 0.5 e se rilanciamo noterete una sostanziale differenza. Eccola qua. Vedete? Abbiamo reso l'area meno opaca, ok? Quindi spostiamo, abbassiamo ancora di più l'alpha. Ritestiamo. Perfetto. Adesso è solo giusto un arancione sottile, sottile, sottile. Benissimo, quindi abbiamo visto come riempire l'area di un grafico. Ora però ne volemmo magari riempire tra un certo punto e il nostro grafico. Quindi poniamo che la media del nostro valore di y sia 125, va bene? Quindi vogliamo riempire solo da 125 in giù per questa parte e poi sopra. Proviamoci. Quindi ci mettiamo qua e lo potremmo chiamare valore medio, quindi media uguale 125. E qua ci basterebbe aggiungere media. Vediamo il risultato. Ed ecco qua, come vi dicevo, vedete? Non so se si vede bene. Abbiamo la nostra media che è a 125. Potremmo fare anche a 140. Adesso proviamo. Anzi, facciamolo subito. Quindi la media la mettiamo a 140. E se noi rilanciamo, ecco qua, vedete bene? 140 si vede proprio sulla grid. Come viene colorata verso il sotto, per quei punti che sono sotto la media, e sopra, chiaramente, per i punti sopra la media. Così abbiamo sicuramente una visione più semplificata del nostro grafico. Ora potremmo anche utilizzare una condizione. Quindi, perché no, possiamo aggiungerla o qua, oppure possiamo farla anche senza media. Proviamo a fare così. Where, apriamo le parentesi e dobbiamo mettere la condizione. Potremmo dire where y è maggiore di, perché no, proviamo 150. Vediamo cosa succede. Lo proviamo e mettiamo la virgola, sia con la media che senza, perché sono chiaramente due tipi di grafici diversi. Ci dà un problema, ovvero che non riesce a fare delle istanze tra list e int. Se vi dà un problema del genere, su pandas, se usate i dati di pandas non dovrebbe essere un problema, perché pandas si basa su NumPy. Ma se state facendo prove così randomiche come me, potreste aver bisogno di importare NumPy. NumPy as np. Chi ha fatto NumPy con me, sa già perché, sa già che queste liste, su queste liste non possono essere eseguite operazioni del genere. Mentre invece chi non sa, chi non conosce NumPy, vi consiglio di andarlo a vedere, perché in certe situazioni vi aiuterebbe tantissimo. Quindi, np array, e noi qua dentro facciamo così. Per chi non sa NumPy, copiatemi alla lettera. Per tutti gli altri sapete già di cosa stiamo parlando. Quindi se io faccio così, proviamo a rimandare a schermo. Vedete che adesso non è un problema. Proviamo a fare Interpolate, vediamo se cambia la situazione. Quindi Interpolate True, perché cambia totalmente in base a Interpolate come viene colorato il grafico. E vedete che adesso viene colorato in modo corretto. Quindi abbiamo, allora, la media è 140 e ho detto sopra 150. Quindi la media è 140. Quindi vedete che viene colorato da 140 o sopra o sotto, come abbiamo fatto prima. Solo che come condizione abbiamo messo mi colori, solo i valori superiori a 150. Perciò, vedete qua, mi ha colorato questo punto e questo punto che è sopra 150. Arriva fino qua, per via dell'interpolazione, quindi come va a colorare il grafico. Ma il punto è questo qua e vedete che non è stato colorato, così come poi questo qua in alto. Perfetto, quindi abbiamo visto come usare le condizioni. Possiamo usare le condizioni anche senza la media, non è un problema, vi faccio vedere. Ed ecco qua. Bene, direi che per oggi è veramente tutto. Nel prossimo video andremo a vedere gli histogrammi, quindi altro tipo di grafico abbastanza conosciuto. Sotto in descrizione trovate il link per acquistare il libro di Pandas and Unpai, se lo volete leggere. Il link al mio secondo canale, al sito, alla community e ai modi per supportare il canale. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao ciao!